Sindaco Giovanni Leonardi, oggi lei ha tenuto un veloce incontro con il comandante della Polizia Municipale. C'è il discorso della viabilità da risistemare, specie negli orari di punta? Sì, facciamo degli incontri periodici con il comandante e con l'ufficio tecnico preposto alla viabilità. Abbiamo affidato a un ingegnere un incarico per la prefattibilità del PUT, del piano urbano del traffico. In maniera da poter avviare già con diversi step la ricognizione dei flussi sul territorio, ma non solo, ma di poter dotare il territorio della segnaletica più appropriata affinché il controllo e l'attività della Polizia possa essere espletata in maniera continua e compiuta. Quindi a breve ci sono gli estremi proprio per ridisegnare completamente la viabilità cittadina? Sì, partiremo con diversi step che interesseranno le criticità del territorio, che sono state già individuate. Ripeto, ci sarà dapprima uno studio per verificare quali sono i flussi e le criticità. Dopodiché avvieremo la segnaletica e chiaramente i vigili urbani saranno messi in condizioni migliori per poter operare. I vigili urbani che in questo momento stanno facendo miracoli con appena 19 agenti, dire che siamo sotto organico è poco. Sì, dire che siamo sotto organico è poco. Abbiamo soltanto una dotazione di 19 agenti in servizio effettivo sul territorio, sulla strada e diciamo che il nuovo comandante, il comandante Zuccarello, ha già avviato un'attività di controllo per quello che riguarda la sicurezza. Sono stati fatti anche attività all'interno delle strutture comunali in orari notturni e approveremo un progetto proprio per i vigili urbani in cui la turnazione sarà anche in orari e serali in modo da poter garantire un controllo più attento sul territorio, soprattutto nelle strutture in cui si sono verificati atti vandalici. Grazie a tutti.